Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna. Anche questa mattina quattro voli sono stati dirottati da Catania. Il Vincenzo Magliocco l'ha stabilito l'unità di crisi, riunita si stamattina alle 5.30. Il check-in dello Scalo Comisano era aperto già dalle 6 per accogliere i primi passeggeri. Dirottati i voli per Napoli, Pisa, Roma e Fiumicino e Milano Linate. Ieri è stata una giornata importante per il Vincenzo Magliocco, per la prima volta è stato alternato di Catania. Non si tratta di un passaggio scontato, tutt'altro. Infatti lo spazio aereo, gestito dall'aeronautica militare, è unico sia per Catania che per Comiso, mentre la circolare NHPT-15, che prevede gli interventi per la mitigazione degli effetti delle missioni di cenere del vulcano Etna, non coinvolge l'aeroporto di Comiso. Ieri si è raggiunto un agreement tecnico tra aviazione civile e aeronautica militare, che ha permesso di individuare una procedura di avvicinamento a Comiso. Grazie a questa collaborazione, ieri pomeriggio due voli all'Italia, da e per Roma Fiumicino, sono stati dirottati sullo Scalo Comisano. Grande soddisfazione è stata espressa dai vertici di SAC e Soaco. Serve adesso monitorare con attenzione la situazione, hanno dichiarato le due società di gestione, ma un passo avanti molto importante è stato fatto. Si è infatti aperta una procedura che, al di là della contingenza di questi ultimi due giorni, non può che portare al rafforzamento della già forte sinergia tra i nostri scali. Un doveroso grazie dicono i vertici di SAC e Soaco, Vada Aeronautica Militare, ENAC ed ENAV per la collaborazione e per aver recepito in tempi brevissimi le nostre ragioni.